ciao a tutti noi siamo gli orazor e vi parliamo subito dopo esserci esibiti per emergenza festival batterista il batterista sono affetto è vero perché è quello che canta no 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 vai con immigrazione ah c'è sta stagione qua chiediamo scusa Quale super eroe? Spiderman, mi piace il rosso e mi piace il blu. Hulk, perché quando mi incazzo diventa una bestia. Super eroe vale Kenshiro. Kenshiro è un super eroe. Devilman, non lo conosce nessuno ma grande. Perché ha le corna? Girobo d'acciaio vale, perché mi piace alla colonna sonora. Beh andare al Taubertal sarebbe già una figata. Poi di conseguenza andare a Firenze e l'altro andare a Milano. Puntiamo altri. Puntiamo altri. Il primo dettato son desideri. Ciao, noi siamo Leo Razor, siamo su Torino. F**king motherf**ker!